Bentornati all'appuntamento con l'informazione di atvreport.it Seduta monotematica sulla ex FCU ieri sera nella residenza municipale di Città di Castello l'amministrazione Tifernate chiede alla regione un incontro con il ministero arriva anche un annuncio shock del sindaco Bacchetta sembra infatti che sia a rischio anche la tratta Città di Castello Sansepolcro e cambiamo ora argomento ci lascia un altro Tifernate doc Ubaldo Mariucci, eclettico artista, disegnatore e fumettista apprezzato ed amato in città con il nome di Baldino è scomparso ieri sera al Prosperius di Umbertide dove era ricoverato i funerali si svolgeranno domani alle 14.30 la salma di Baldino è attesa nella chiesa di Santa Maria Maggiore in fondo al corso a Città di Castello e Elena Bartolini dell'associazione Il Tombolo di Anghiari ha vinto il primo premio del quindicesimo concorso Ricamare l'Umbria alla tovaglia della pace che si è svolto a Valtopina queste e tante altre notizie le trovate come sempre aggiornate nel nostro sito internet www.atvreport.it www.atvreport.it